Ciao, sono Francesco Lauriola e sono un volontario del servizio civile dell'Università degli Studi di Padova. Mi occupo del coordinamento dei tutor del Dipartimento di Scienze Politiche e forniamo un supporto alla didattica e alle varie procedure amministrative per i nostri studenti. Sì, più o meno questo qui è quello che faccio. Mi piacerebbe lavorare in un ambito che sia tra l'agricoltura e l'economia.